Dalle giornate calde e soleggiate agli improvvisi, crolli termici e così spazio agli starnuti e colpi di tosse anche fuori stagione. Colpite particolarmente le fasce più vulnerabili della popolazione, come anziani e bambini, sotto attacco invece principalmente le vie aeree. Noi il polso della situazione ce l'abbiamo per gli accessi al nostro pronto soccorso. Tra l'altro devo dire che il pronto soccorso pediatrico nel 2023 abbiamo fatto quasi 12.000 accessi. Quindi lavora tanto, lavora di giorno, di notte. Non sono solo i weekend, ma oramai è un flusso continuo. Qual è la patologia più comune? Sono le infezioni tuttora delle vie respiratorie, alte, basse vie respiratorie, ancora imperversano virus vari, virus influenzali. Abbiamo una coda ancora del famoso sinciziale che causa bronchioliti ancora nei bambini piccoli. Si spera questo nel giro di 15-20 giorni di superarlo, ma il sinciziale è solo uno dei tanti virus, quindi assieme a tutta la parentela degli influenzali, parainfluenzali e altro. Poi non è solo questa la patologia, ma poi c'è tutta la patologia di altro genere, l'addominale, gli appendiciti, tutte le urgenze, diciamo, tante. Noi siamo un bel aiuto, penso alla cittadinanza, non soltanto alla cittadinanza di Arezzo, ma un po' a tutta la provincia che confluisce sul San Donato.